Telecom Italia vuole avere un ruolo fondamentale sperabilmente all'interno della vita digitale dei nostri clienti e quindi in principio di tutti i cittadini italiani. Quindi il concetto di identità digitale è uno degli elementi fondanti della vita digitale nel suo complesso insieme evidentemente ad altre esperienze come per esempio i pagamenti, le carte, la sanità elettronica. Sono tanti gli elementi che costituiscono la futura vita digitale del cittadino italiano. Noi vorremmo essere presenti, essere attori protagonisti di questo nuovo mondo. L'identità digitale è un elemento fondante e fondamentale, quindi noi vogliamo essere parte di questo ecosistema. Stiamo lavorando su molti degli aspetti di quella che consideriamo la vita digitale sicura del cittadino, quindi dei nostri clienti. In particolare sull'identità digitale stiamo partecipando proprio in questi giorni alla sperimentazione del modello SPID. È una sperimentazione tesa appunto a verificare e migliorare alcuni dei processi che sono stati ipotizzati e che poi diventeranno standard nel prossimo futuro. Allo stesso tempo evidentemente stiamo esplorando altri aspetti della vita digitale di cui sopra sui quali crediamo molto e pensiamo possano complementare ciò che l'identità digitale come elemento fondante abilita.